Aperitivi e cene per la campagna elettorale. Nel weekend il Popolo delle Libertà chiama raccolta ai suoi elettori per la corsa dell'ultima settimana. Casoli riunisce moltissime persone all'Hotel Gentile, mentre l'Azione Giovani offre un precena nella nuova sede del Popolo delle Libertà. Dazzi, voto utile e tutela degli operai per il magnate delle cappe, mentre si parla della difesa del Tibet per i giovani di alleanza. Stiamo già entrando nelle scuole con una raccolta firme, una petizione, dove tutti gli studenti cercano di dare la propria solidarietà a questa popolazione che viene oppressa dalla Cina. Questi gli ingredienti di un weekend di comizi e incontri per spingere gli italiani un po' sfiduciati a ritornare a votare. Abbiamo chiamato tutti quanti i movimenti giovanili che si raggruppano all'interno del PDL giovani, quindi abbiamo raggruppato Forza Italia Giovani, Azione Giovani. I ragazzi dei circoli della libertà e molti altri ragazzi che in questo momento di poca passione politica hanno deciso di intraprendere quella che vuole essere una politica per cercare di incidere e di cambiare in maniera radicale questa nostra società.